Musica Buonasera, io sono il sindaco di Bianchi, Tommaso Paola. Stasera vorrei più che altro stigmatizzare la necessità di valorizzare, di effettivamente iniziare un nuovo percorso per quanto riguarda le ferrovie della Calabria. Anche perché sono in duplice veste, visto che sono un pendolare da 30 anni, viaggio col treno, quindi diciamo che sono abbastanza addentrato al problema. Quindi spero che questa sera anche il direttore generale Lofeudo ci possa dare delle rassicurazioni, anche se sicuramente si dovranno muovere più a livelli più alti la regione. E addirittura io direi anche proprio dal punto di vista del governo, perché purtroppo qua è inutile stare un pochettino a discutere sulle piccole cose, gli orari eccetera eccetera. Il problema è a monte, perché se si vogliono salvare questi piccoli paesi, cosiddette aree interne, bisogna che si intervenga seriamente. E per seriamente, secondo me, la prima cosa appunto da mettere in agenda il governo regionale e il governo centrale, deve pensare appunto alla mobilità. Perché purtroppo i paesi piccoli, così come stanno adesso le cose, sono destinate a scomparire. Non voglio essere pessimista, ma di fatto è così, perché si vede appunto il calo demografico, le difficoltà che incontriamo giornalmente, quotidianamente, appunto a muoverci tra la periferia e i capologhi di provincia, Cosenza e Catanzaro. Quindi, se effettivamente si vuole dare una risposta seria, bisogna programmare in modo serio. E per programmare in modo serio, le risorse devono essere investite appunto sulla mobilità. Mobilità che può essere la ferrovia, così come si può anche, diciamo, di decidere, Penso che è una cosa ormai risaputa, il fatto della strada che non c'è, quindi si può anche decidere di investire anche sulle ruote, ma in ogni caso i collegamenti tra i nostri paesi e i centri Cosenza e Catanzaro, bisogna ripristinarle in modo efficiente. Più che altro uno può essere pendolare appunto se la distanza è ragionevole, se per arrivare a Cosenza impiego due ore, ovviamente preferisco andare ad abitare a Cosenza anziché viaggiare. Quindi speriamo che la riunione di stasera possa essere, diciamo, da input, un inizio per una fase nuova, io direi una fase nuova per tutto il territorio. Grazie. Grazie.